Un bando di gara che non garantisce continuità occupazionale ai circa 160 lavoratori che dal 2008 sono impiegati nella struttura. Questa mattina davanti alla prefettura di Bari i sindacati sono scesi in piazza per appoggiare i dipendenti del CARA e contestare un nuovo bando che potrebbe lasciare a casa numerosi lavoratori. Il bando di CARA prevede la suddivisione in quattro lotti della attuale gestione del servizio presso il CARA, quindi significa di conseguenza un eventuale subero del personale a seconda che si parli di operatori generici che si occupano delle pulizie e della sanificazione del centro, sia anche del servizio mensa e dispensa anche dei pasti, così come anche dei servizi sociali che vengono garantiti dagli operatori inquadrati nel settore delle cooperative sociali. Diversi JCT inorganizzati per denunciare la problematica. I sindacati, assieme al prefetto, avevano già evidenziato negli scorsi incontri la necessità di avviare una discussione con il ministero, ma ad oggi ancora nessuna risposta è pervenuta. Abbiamo già effettuato un sit-in nel giorno 19 settembre, abbiamo già effettuato i primi di settembre un altro incontro sia con la dottoressa Guida che con il prefetto di Bari, dove abbiamo rappresentato tutte le anomalie, tutte le incongruenze rispetto a questo nuovo bando di gara, in quanto il ministero degli interni ha inteso espletarlo in una maniera differente rispetto al pressato e abbiamo chiesto quindi un intervento in modo tale che fossero inserite delle variazioni delle rettifiche in corso d'opera. Queste rettifiche non sono intervenute, quindi la nostra preoccupazione oggi, che verranno aperte le buste, è che si possa fare una giudicazione di una mattanza dei posti di lavoro.